Ci giunge adesso una notizia. L'acciaccatore di Baltimore ha colpito ancora. La polizia locale ci informa che il folle ha attaccato la signora Shirley Evans pochi minuti fa nel viale Crockfield. E Canale 12 era lì per voi Non voglio apparire in televisione Il mio piede, il mio povero piede La signora Evans è stata ricoverata al centro traumatologico della misericordia Molti passanti sono stati testimoni della barbara aggressione Ho veduto, ho veduto sto tizio Strambo acciaccare il piede di sta bianca fottuta La polizia ha rilasciato oggi questo identikit nella speranza che qualcuno possa identificare l'aggressore